Mi trovo al Parco Trotter con ingresso da Via Giacosa e andiamo a vedere un'altra delle novità di fuorisalone. Siamo al Parco Trotter e questa installazione, quella che stiamo per vedere, si chiama Bagno Diurno, l'hanno chiamata così, ed è realizzata all'interno dell'ex casa dell'acqua potabile, qui in Parco Trotter, in Via Giacosa, con ingresso da Via Giacosa. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.